GB, incendio in parco, morte 13 scimmie, ANSA, Londra, 2 gennaio un incendio divampato nella notte all'interno del Woburn Safari Park, a 80 km a nord di Londra, causando la morte di 13 scimmie. E' stato infatti avvolto dalla fiamme il recinto dove erano rinchiusi gli animali e nonostante l'intervento dei pompieri non stato possibile salvare le scimmie della specie eritrocebo, un portavoce del parco ha annunciato l'avvio di una inchiesta sull'accaduto. Nelle scorse settimane un altro rogo era divampato nello zoo di Londra provocando la morte di un formichiere e quattro suricati.